Simon Petrus ed anci un'otere scolaire soni essieva a Gesù. Voi l'otere scolaire da era bene conciente col primso azzadot, perque ol' pudia ir con Gesù fin aintil sull'erde d'Aintz dalla Cesa. Petrus soffermò cu'our aintil curtin. L'otere scolaire, il conciente col primso azzadot, esdarciotto noi n'or, o discurìa con la serviente dal Portun e dopo ilio aint era Petrus. Quella serviente dal Portun ho domandò a Petrus, «Ma non eser tu in scolaire da quest'om?» «Na, quello non su, nae!» Ho dò Petrus per risposta. Ad era freit! Il serviains, els guardiems, vaiven perque fati un fè cu'n cravuns, staiven intorni l'fèu, es studaiven. Petrus esia vi, es studaiva erell. Hannas interrogescia a Gesù. Il primso azzadot o domandò a Gesù, tassia scolars e tassia a Musa meint. Gesù dìt, «Ai dè a dünna discurìa a verta manc, davain tot il Munt. Ai dè musso ainti le sinagoges ed il tempel, in uccia sinc kontran totes Giudevs, ainu dè me di tinguatta alla zupeda. Perchè du mandas tu allora me? Tu manda tu dünna alla liet, c'è o udìa mi es plèds, quel sem que? Cor c'è Gesù o dìtque co, l'odò un dàts guardiems in un schlèpa eint pervište e o dìt, «Cù ad posti permetter da discurè in tal mòt col primso azzardot?» Gesù o replicò, «S'haide dìt, quaccio se fòs, si dòm la prova, ma s'ha son intret, n'u m'suest c'est tu dèr schlops. Ma Hannes o tramiss a Gesù liò tal primso azzardot Caiafas. Petrus schneia a Gesù per la seguanda volta. Petrus dèr ancia dünna, Ma haide dìtot un visset e con ell, in sembel, hainti lört!» Dar ciò o Petrus facet ergiò, ed in quel moment oceantò il ciòt. l'eurole a Thèromba, l'eurole a Thèromba, l'eurole a Thèromba. L'eurole a Thèromba. Grazie.